il video è venuta la mania di fare video a minchia e mettere su youtube non ti ho inquadrato, non ti preoccupare anche l'amore che hai detto stiamo scendendo i piedi ma è il tuo prezzo che vuoi vedere il conservatorio non è pure qua vicino il conservatorio è tutta cosa mia qui è quanto le imbaccano a piedi anche cazzo un grande voi Grazie a tutti.